Sport in altamente dopo il terremoto è divestata una città bellissima, però io spero che si continua così perché sport è parte da una vita a 360 gradi, ti insegna tante cose, non solo per vincere ma anche per perdere, anche le realtà, anche il rispetto, anche per raggiungere i nostri obiettivi, per essere esportivo e anche nonno. E' una cosa molto importante e io spero che continui così, io non sono parte di loro, però sicuramente facciamo noi ex atleti o facciamo qualcosa e dare sempre un messaggio positivo. Speriamo che questa segnazione diventa più solo un inizio, non solo una volta quest'anno, poi basta, deve continuare così. Io sicuramente sono venuta qui già prima, non so quando, però se prima o dopo il terremoto, penso che prima e la Fontana è quella che ho conosciuto, è molto simile, non mi ricordo più anzi, però è sempre una bella città, c'è sempre una storia, è molto vicino da Roma e giustamente è influenzata da Roma e le storie, il mondo dei sport, è una cosa molto importante e molto bella. Grazie. Grazie.